musica creazione se siete interessate alle mie creazioni potete anche acquistare le mie creazioni chiedendomi l'amici insieme su facebook in questo video saluto due persone che me l'hanno chiesto su instagram saluto julie style e sarahfimocreation vi lascio i nomi qui così vi potete riconoscere e niente ragazzi spero quindi che il tutorial vi piaccia come sempre se volete lasciate le richieste qua sotto o qualsiasi altra cosa io vi risponderò sempre e niente noi ci vediamo quindi ad un prossimo video gamba a te sarete va bye bye musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.